Come eliminare definitivamente un account Google Dopo aver aperto Google il primo passo è accedere all'account che si vuole eliminare, inserendo mail e password. Fatto ciò cliccate sull'icona dell'account in alto a destra e poi suggestisci il tuo account Google. Finirete su questa pagina. Adesso sulla sinistra dovete selezionare la voce dati e privacy. Quando sarete in questa pagina scorrete fino in basso con il mouse finché non trovate l'opzione che dice «Elimina il tuo account Google» e cliccateci. Sopra potrebbe chiedervi di nuovo di inserire la password dell'account ma dopo vi si aprirà questa pagina qui Google. Vi dà la possibilità di salvare nel vostro computer i dati del vostro account prima di eliminarlo. Vi mostra tutti i servizi di Google in cui il vostro account ha operato, come Gmail o YouTube. Spuntate le ultime due voci e cliccate su «Elimina account» ed il gioco è fatto. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.